Ormai sempre più i dispositivi stanno diventando elettrici, le bici, le automobili, diversi meccanismi. I problemi principali, ormai lo sappiamo, sono prevalentemente due, la generazione di energia elettrica e le batterie. Sulle batterie si stanno facendo davvero tante ricerche con vari materiali e configurazioni. Oggi vogliamo parlarvi di una di queste in particolare, realizzata proprio qui in Italia. Infatti è pronta la prima dimostrazione di una delle ultime novità in ambito di accumulo energetico. Si tratta della prima batteria a base CO2, quindi anidride carbonica. Questo sistema, sin dagli studi preliminari, si prefissa come obiettivo principale quello di essere molto affidabile e di lunga durata. Vedremo poi qualche confronto con altre soluzioni. Siete pronti? Cominciamo! CO2 battery, di cosa si tratta? Stiamo parlando di Energy Dome, azienda milanese che opera appunto nel settore della CO2, che dopo un periodo di ricerca e sviluppo durato circa 3 anni, finalmente è stata in grado di presentare la prima CO2 battery dimostrativa. Quindi non siamo ancora al prodotto definitivo, ma già dai primi utilizzi questa batteria ha confermato le aspettative. Il sistema sembra poter offrire un'ottima capacità di accumulo a costi effettivamente competitivi. Come sapete, in questi casi, rimane presto per trarre delle conclusioni definitive, in quanto ci sono molte fasi prima di arrivare poi al prodotto finito su scala industriale, che arriverà quindi al mercato, ma i presupposti sembrano esserci. Ora vedremo esattamente come funziona, quindi qual è il principio con cui si può immagazzinare energia elettrica tramite l'impiego di anidride carbonica, ma prima vi chiedo un piccolo favore. Ingenieria Italia punta ad un traguardo che è piuttosto ambizioso qui su YouTube, ovvero arrivare ad un milione di iscritti. C'è ancora tanta strada da fare, lo sappiamo, ma procediamo spediti visto che a fine 2021 non avevamo neanche 20.000 iscritti. Dateci una mano a trasformare questo obiettivo in realtà. Ma ora torniamo a noi e alla batteria CO2. In particolare, come fa a funzionare realmente? funziona perché si tratta di una diretta evoluzione del Liquid Air Energy Storage, indicato più spesso con la sigla LAES. Quest'ultimo sistema si basa sull'immagazzinare energia tramite il raffreddamento dell'aria, fino ad arrivare allo stato liquido. Quando c'è necessità, l'aria viene riportata allo stato gassoso e immessa in una turbina per poi generare energia elettrica. Nel caso della CO2 battery, l'aria viene letteralmente sostituita dall'enidride carbonica. Siccome il punto di condensazione della CO2 è più alto di quello dell'aria, l'impianto di Energy Dome richiede temperature di funzionamento più alte, riducendo di conseguenza i costi e l'energia in gioco. Ma perché CO2 battery? Per rispondere a questa domanda, attualmente l'accumulo si basa su batteria a piombo oppure al litio. Il loro peso specifico è molto elevato e questo ne limita inevitabilmente gli utilizzi. La società milanese spiega invece che la CO2 battery può essere installata rapidamente in qualunque parte del mondo ad un costo decisamente più basso se lo confrontiamo rispetto a sistemi con batterie al litio oppure al piombo, sempre della stessa taglia. Infine, anche il costo di stoccaggio è competitivo nel settore energetico. Energy Dome dichiara che il costo dello stoccaggio delle sue batterie si muove attorno ai 50-60 dollari per megawattora. I sistemi di accumulo attuali, a litio prevalentemente, hanno un costo di stoccaggio che va dai 132 ai 245 dollari per megawattora. Se siete arrivati fino a questo punto dal video è il momento di capire nel dettaglio come funziona il processo di queste batterie. Fate attenzione, l'anidride carbonica si espande notevolmente quando passa allo stato gassoso da uno stato liquido, in cui si mantiene solo ad una pressione almeno 5 volte superiore a quella atmosferica terrestre. A temperatura ambiente un valore di 2,5675 litri di CO2, ovviamente sto parlando di CO2 liquida, si espanderanno fino ad arrivare a 1000 litri di CO2 gassosa. Stiamo parlando di un fattore moltiplicativo di quasi 400. Il sistema di ricarica utilizza l'elettricità per azionare i compressori che comprimono e liquefanno l'anidride carbonica. Le batterie di Energy Dome, in sostanza, sono un insieme di serbatoie ad alta pressione pieni di anidride carbonica liquefatta. Il processo di carica di queste batterie avviene utilizzando l'energia per far funzionare questi compressori elettrici che costringono il gas in volumi sempre più piccoli, condensandolo infine in un liquido immagazzinato sotto pressione ma a temperatura ambiente. Questo processo di ricarica crea anche del calore di scarto, ma non viene sprecato, semplicemente viene catturato in un sistema di accumulo di energia termica. L'efficienza di andata e ritorno di questa soluzione, secondo quanto affermato da Energy Dome, è superiore al 75%, è tanto oppure è poco? In realtà, su questo punto, la batteria CO2 non può competere con le grandi batterie a litio. Questa riduzione di efficienza è compensata da un costo di stoccaggio però decisamente più basso, perché anche se i costi sono minori rispetto alla tecnologia a litio, non si tratta del sistema di stoccaggio più economico in assoluto, poiché esistono altre soluzioni in grado di immagazzinare energia a prezzi minori. Ma in genere queste alternative sono più lente nel reagire alla domanda e più appropriate per la produzione stagionale di energia a lungo termine. Le batterie a CO2 possono rispondere invece in maniera pressoché istantanea, proprio come le batterie a litio. Infine, secondo questi calcoli preliminari, sarebbero in grado di immagazzinare energia più a lungo con una minore degradazione del sistema. Questi naturalmente sono lati positivi, fate attenzione però perché c'è anche un altro lato della medaglia come in tutti questi casi. Energy Dome è un'azienda molto giovane e recente, nata nel 2020, con davvero tanto ancora da dimostrare. Il suo impianto in Sardegna è il primo vero banco di prova. Come dicevamo all'inizio è stato realizzato il progetto dimostrativo, ovvero un impianto da 2,5 MW di potenza e 4 MWh di capacità, che ha confermato la capacità di immagazzinare energia per lunghi periodi di tempo mantenendo un'efficienza di andata e ritorno altamente competitiva, senza degrado o dipendenze dal sito. Tutto questo tra l'altro utilizzando apparecchiature standard già disponibili in commercio, quindi senza sviluppare apparecchiature da zero. Ma quali sono i prossimi step? Realizzare un impianto su larga scala da 20 MW e 200 MWh, implementare così il primo progetto su scala commerciale entro il 2023. Sicuramente in questo momento c'è tanta richiesta di nuove tecnologie, in particolare che riguardano il mondo elettrico. Negli ultimi mesi su Ingegneria Italia abbiamo parlato di diversi tipi di batterie, alcune meno funzionanti come quelle gravitazionali, altre invece potenzialmente più performanti come quelle che sta sviluppando Tesla per la prossima generazione di veicoli elettrici. Insomma ci sono tanti tentativi in atto, ma non tutti questi tentativi diventeranno lo standard operativo che farà funzionare tutti i dispositivi che utilizziamo ogni giorno. Ma sicuramente il motivo per cui tutte queste aziende o startup stanno investendo così tanto in queste tecnologie è che il problema dello stoccaggio dell'energia su larga scala è tuttora non risolto. Fateci sapere voi ragazzi nei commenti cosa ne pensate di questo progetto italiano, se secondo voi le batterie CO2 potranno affermarsi nei prossimi anni come standard in questo settore, oppure se si tratta solo di un'idea bella sulla carta ma che non vedrà mai la luce del sole troppo splendente. E' sempre bello vedere anche nei commenti cosa ne pensate di queste iniziative particolarmente innovative. Se il video vi è piaciuto o se avete semplicemente imparato qualcosa mi raccomando lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Ingegneria Italia. Ciao a tutti ragazzi!